Buonasera a tutti e benvenuti. Corte Suprema degli Stati Uniti, Amy Coney Barrett, nuovo probabilmente giudice della Corte Suprema, sostituisce Ruth Bader Ginsburg, giudice progressista recentemente venuta a mancare. Uno dice, vabbè, sono due donne che si avvicendano, rimane comunque la cosiddetta quota rosa che ci piace tanto in Italia così mantenere o indicare, in realtà vi è un cambio diametralmente opposto perché stiamo parlando della morte di un giudice progressista, l'avete anche vista anche nel modo di essere, di porsi, di vestire, di muoversi, molto moderna, molto aperta a quelle che sono le esigenze del mondo, ripeto, avvicendata da un giudice ultraconservatore, ultrareligioso, antiabortista della prima ora. Questo è un fatto che chiaramente farebbe e farà presumibilmente in novembre la felicità del Partito Repubblicano, anche se, vabbè, qualche Repubblicano potrebbe storciare il naso, c'è Mitterumi, ci sono altri senatori, ma in realtà quale Repubblicano non vorrebbe vedere all'interno della Corte Suprema un altro giudice conservatore e siccome i giudici della Corte Suprema sono nove, sono eletti a vita, averne sei contro tre, chiaramente costituirebbe un gran bel vantaggio direi anche per una prossima generazione a venire. Quindi, dicevo, la Barrett in grande pole position per la conferma giudice della Corte Suprema. Tra l'altro la Barrett viene già citata, si dice, nel 2018 da Donald Trump quando, dovendo avvicendare anche lì un altro giudice della Corte Suprema, Anthony Kennedy, disse, no, io la Barrett me la tengo per la Ginsburg, quasi profetizzando in un certo senso un prossimo e futuro decesso di questo giudice della Corte Suprema, proprio per avvicendare la Barrett. Fra l'altro Trump con questa nomina rispetto agli altri presidenti, parlo di Obama, parlo di Bush, parlo di Clinton, va a indicare e nominare rispetto agli altri che ne hanno nominati due nel corso del loro mandato, ne indica già tre. Fatto che può non avere ovviamente nessun tipo di rilievo particolare, ma comunque è un'impronta che questo presidente americano sicuramente lascerà all'interno della Corte Suprema. Il gioco tra le parti, l'agone politico tra le parti in questo momento è cercare per i democratici di spostare l'avvicendamento della Barrett e quindi la nomina della Barrett dopo le elezioni presidenziali, questo perché? Perché si potrebbe giocare insomma anche politicamente sulla conferma o non conferma di questo giudice, mentre Trump ovviamente spinge per avere la conferma prima delle stesse elezioni. Diciamo anche questo sarà oggetto di battaglia politica, proprio perché verrà sbandierato da domani in avanti la Barrett come giudice, ripeto, anti-abortista, conservatore, molto religioso e quindi così politicamente diventerà uno spauracchio da mostrare agli elettori dicendo attenzione che anche questo giudice, gli Stati Uniti ripiomberanno in un'era oscura, senza modernità e quanto altro e quindi tutto viene buttato nel calderone politico. La Barrett, dicevo davvero, è molto cattolica, viene da Notre Dame, Università, non a Yale o Harvard come gli altri giudici della Corte Suprema, però davvero è in posizione apicale in una sorta di, chiamiamola setta, si chiama People of Praise, è una sorta di comunità religiosa molto molto devota, con una sorta di cattolicesimo carismatico e tutta una serie di vissuti e di credo davvero davvero importanti per quello che è il concetto di marito, di moglie, di famiglia, le valutazioni sull'aborto e quanto altro. Ecco, questo è il fatto, cioè questo è quanto ci si ritroverà a gestire, a giudicare tra poco negli Stati Uniti, ripeto, con una Corte Suprema e ragioniamo anche noi un pochino su queste vicende perché una Corte Suprema con nove giudici nominati a vita in queste condizioni davvero spostano l'ago della bilancia anche per quella che è la modernità, il percorso di un paese per quanto riguarda il sociale, per quanto riguarda la famiglia, per quanto riguarda i rapporti civici tra le persone e quanto altro. Coney Barrett in questo momento è candidato, nominato giudice della Corte Suprema, pronta per essere ratificata ai primi di novembre. Grazie. Grazie. Grazie.